Buongiorno, mi presento e il mio nome è Lorenzo Cannone, sono direttore commerciale di Isoil Industria per la divisione IsoControl. Anche quest'anno come negli anni precedenti siamo felici di partecipare a questo evento. È un evento importante a livello di formazione perché parliamo di formazione di altissimo livello e dove Isoil è ovviamente lieta di presentare e di condividere le esperienze passate e le competenze che abbiamo avuto la fortuna di poter acquisire in questi anni. Nello specifico quest'anno abbiamo portato tre contributi importanti di cui uno di innovazione pura, il primo è legato a tutte quelle che sono le problematiche delle misure in campo. Uno degli elementi importantissimi per quanto riguarda le misure è la possibilità e necessità di poter verificare le precisioni direttamente della strumentazione stradata anche da più anni. In questa occasione grazie anche al laboratorio libera e al responsabile l'idea quella di dare alcune input e possibilità di fare questi controlli, queste tarature o queste verifiche in campo senza apporto di strumentazione esterna o senza bisogno di smontarlo. Il secondo è legato invece all'intelletto delle cose, quindi un'idea, una panoramica di quali sono oggi le realtà, le tecnologie e le possibilità di questa nuova, come si può dire, nuovo orizzonte di tecnologie applicate poi all'uso comune. La terza, che sarà nel pomeriggio, è legata alla nuova tecnologia radar per l'elevazione delle perdite che si differenzia drasticamente da quelle fino ad oggi conosciute sul mercato. Questo tipo di tecnologie verrà poi ripresentate in maniera molto più ampia anche a un evento che sarà breve a Bologna, ma questa è la sorpresa che teniamo nel cassetto. Grazie.